Cari quaddisti, Andrea Cesari, primo posto in gara 1, quarto posto in gara 2, vincitore assoluto di giornata a questa prova di campionato italiano internazionale 4.50 a Odolo. Andrea, è la prima volta che sei sul gradino più alto del podio nella QX1 internazionale italiano. Sì, è andata benissimo, sono molto contento anche perché vengo da due settimane di totale stop, sia di moto che di palestra che di corsa a piedi, qualsiasi cosa e quindi mi aspettavo di certo questo risultato, la prima gara è andata subito benissimo, non so neanche io sinceramente come ho fatto, però la seconda invece… Hai semplicemente partito davanti, hai avuto un certo punto della gara, terreno libero davanti, hai marciato… Invece alla seconda mano sono un partito un po' più tranquillo, ho un po' gestito anche perché avevo problemi già al secondo o terzo giro con il mio ginocchio e allora logicamente ho provato a tirare ma vedevo che a tirare non guadagnavo niente ma lasciavo lo stesso gap. Ecco, l'unico problema che ho avuto è che comunque con questi piloti che vanno tutti forti a recuperare è quasi impossibile. Eh, diciamo che hanno picchiato tutti i giri in 1.44 anche basso e recuperare era… Io ho provato fino a metà gara a tirare però vedevo che comunque il recupero non c'era, eravamo sempre alla stessa distanza. E con la tua quarta posizione eri comunque matematicamente certo della vittoria di giornata. Ho preferito gestire anche perché così il primo podio… Comunque giravi in 45, eh? Sì, sì, no, no, però logicamente ho perso il treno un po' all'inizio dove loro mi hanno subito guadagnato dei metri però sono così, sono andati più forti di me a seconda. E come loro hanno perso il tuo treno nella prima? Boh. Eh, uguale. A parte Nicola che voglio dire agli altri c'erano tutti anche nella prima ma nella prima sei riuscito a imporre tu la tua velocità e da solo ti hanno mollato, non sono riusciti a tenerti perché il ritmo c'era. Andrea, ormai sei un grande campione. Con calma, ce n'è ancora. Per carità, comunque grandi complimenti, primo posto, QX1 di giornata, Andrea Cesari, Team KTM di Team Arena. Grazie.